La parola chiave è fantasia e collaborazione, in quanto come Banca Manzano abbiamo messo sicuramente la fantasia istituendo questo spazio e la collaborazione in quanto alcune aziende hanno bisogno di avere una sinergia fra noi e loro. Queste due sinergie, queste due entità, penso sia il modo giusto affinché queste possano stare assieme, sia quindi con fantasia e sia con sinergia per poter entrare in un mondo del lavoro che comunque ogni anno è più difficile. Sono Roberto Padalino, di Primo Editore, per me la baritona è stata sociale, poiché che coinvolgerà sia le aziende che i cittadini del territorio di Pavia di Udine. Io sono Giacomo Tremizan, di Socialitudine. Per me la parola chiave che descrive al meglio la maratona di 24 ore è collaborazione, collaborazione che c'è stata tra le varie realtà insegnate con i factory e collaborazione che sarà fondamentale tra le imprese e le attività commerciali di Pavia di Udine per la buona riuscita del progetto che andremo a presentare. Connessioni. La connessione tra le persone ha permesso la realizzazione di questa maratona che a pochi minuti dovrà al suo epilogo. Una connessione tra i giovani e una connessione con le aziende di Pavia di Udine. Basta pensare all'Ibriosto stamattina, all'aperitivo di ieri sera dove le imprese sono diventate parte integrante di quello che era la factory, di quello che è la factory. Tra pochi minuti scopriremo quello che è la loro proposta primaria e in un'ottica per cui i ragazzi veramente hanno lavorato in queste 24 ore in un modo incredibile. Sono Claudia Pesani, per me la factory è sinergia, perché l'unione fa la forza. Ciao, sono Chiara di Medea, per me la maratona della factory è stata un passo verso il cambiamento, secondo me questa è una delle parole chiave. Il cambiamento che siamo riusciti ad attuare con le imprese di Pavia di Udine. Un passo verso il cambiamento, secondo noi, è il verso giusto per il futuro.